E' tempo di fare le pulizie di primavera a Catanzaro e nella regione Calabria, quindi oggi più che mai è davvero tempo di aprire un po' le finestre e di cambiare l'aria. Abbiamo visto in questa fattispecie a Catanzaro come già questa amministrazione sia partita male per via delle liste elettorali, la situazione delle liste elettorali che ben tutti sapete, e come poi la situazione è degenerata con tutto quello che avete potuto apprendere dagli organi di stampa, avete visto la vera situazione sugli appalti, sull'acqua, sulle multe e quant'altro. Sulle technicality poi vi risponderanno meglio loro che hanno preparato l'istanza che attualmente è a Roma, per cui è già al vaglio del Ministero. Per cui, primo obiettivo, cominciamo ad aprire l'aria qui a Catanzaro, ad aprire le finestre, portare l'aria nuova a Catanzaro, ritorniamo al voto a Catanzaro, così come ritorniamo al voto anche nella regione Calabria, dove Scopelliti dicono che si sia dimesso, ancora stiamo aspettando che questa cosa sia ufficiale, perché ad ora non ho visto nessuna carta, non vorremmo mai che forse l'ennesimo gioco elettorale, per potersi alzare la posta e candidarsi anche poi alle europee, e andiamo al voto soprattutto in Calabria quanto prima, e soprattutto Alfano, di cui Scopelliti era il braccio destro, deve fare anche lui un passo indietro, perché si è circondato di persone che avete visto poi che cose sono rivelate di essere. Per cui, ancora una volta, questo il 2014 potrebbe essere l'anno della riscossa anche calabrese. Possiamo chiederle a che punto è l'interrogazione che avete presentato sul Consiglio Comunale a Catanzaro? Attualmente è al vaglio del Ministero, come sapete le interrogazioni richiedono tempi lunghi, faremo il richiamo anche su quello, perché dobbiamo dare priorità massima. Come abbiamo detto, iniziamo a fare le pulizie di primavera, è basilare, andiamo al voto quanto prima, restituiamo ai cittadini la possibilità di potersi esprimere e di avere dei rappresentanti, degli organi che siano degni dei calabresi. Ci ha riferito che l'istanza è a Roma, abbiamo fatto una chiacchierata anche informale, diciamo a microfoni spenti, ovviamente ci sembra corretto che le considerazioni rimangano in quelle stanze, ma appena le cose andranno avanti, la magistratura andrà avanti, poi vedrete anche gli atti che è in mente. Poi da questo punto di vista, loro che sono avvocati, sono molto più esperti e tecnici di me, oltre ad aver redatto anche l'istanza, vi chiariranno meglio anche le technicality.